Un sabato Gesù passava fra i campi di grano i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero, «Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?» Gesù rispose loro, «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame?» Come entrò nella casa di Dio, prese i panni dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non è i soli sacerdoti. E diceva loro, «Il figlio dell'uomo è il Signore del sabato». Parola del Signore Se l'ho dato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, sabato 4 di settembre, quarto giorno della contemplazione del Mese degli Angeli e anche forse quarto giorno della contemplazione del nostro Angelo Custode, che deve essere il nostro primo riferimento, quell'emissario, quel messaggero che Dio ci manda per starci accanto, accanto in ogni situazione, quindi potremmo averla accanto anche nel momento della nostra Mesa, in cui noi ci apprestiamo a rifocillarci, a rinvigorire le nostre forze attraverso il nutrimento. Allora, quando vediamo una sedia o più sedie vuote, appunto, possiamo invitare il nostro Angelo Custode, come possiamo invitare il nostro Signore a banchettare con noi. Penso che sia una cosa molto bella e anche un qualcosa di molto tenero per far capire, Signore Gesù, tu ci sei, non ti abbandoniamo, allo stesso modo anche il tuo Angelo Custode che ci ha inviato, che mi ha inviato, è qui con me e qui rimarrà, ovunque sia, comunque sia. Andiamo avanti col pensiero di San Pio e poi, naturalmente, il Santo del Giorno. Oggi parleremo di una figura, appunto, nata verso la fine dell'Ottocento, primi Novecento, e Dina Belanger, una ragazza di un grandissimo talento a livello musicale e, naturalmente, con tanti doni mistici, perché, comunque, in ogni caso, quando ci sono quei talenti così particolari in cui veramente il genio sfiora l'assoluto, allora lì c'è il Signore, poi, naturalmente, il Signore si mostrerà a lei, prenderà parte, ma questo mostrarsi a lei avrà sicuramente anche un risvolto non positivo perché Dio dà, ma Dio prende, quindi, di conseguenza, tanto ha dato, tanto va preso anche la sua anima, gli avrà dei momenti di sconforto, di terrore, momenti che, quella notte oscura, che per lei è una notte di tanti anni, però riuscirà a superarlo in maniera egregia. E questo è anche un po' significativo del fatto che tutti noi passiamo dei momenti tristi e terribili e sentiamo che il Signore non ci è vicino, ma, in qualche maniera, forse per noi che lo sentiamo lontano è più vicino di quello che si pensi. È un momento che passano tutte le persone che sono vicino a Dio ed è così. Però non abbandoniamoci alla disperazione, anzi, la disperazione è uno di quei peccati mortali che grida, appunto, vendetta davanti allo Spirito Santo. Quindi, di conseguenza, avanti sempre rinvigoriti sapendo che più noi veniamo provati, più Dio è vicino a noi. Ecco. Ed è anche questo un po' il life motive del Vangelo. Qui viene detto che Davide, a Davide era concesso di fare delle cose che ad altri non era concesso. A Gesù è concesso di fare delle cose che ad altri non è concesso. quindi in questo caso Dio mostra la sua, tra virgolette, sempre naturalmente, preferenza verso alcuni e quella preferenza dà delle concessioni che ad altri non è concesso. è un po' come è successo, come dicevo prima, alla Santa del Tempo e di cui oggi ed è una situazione particolare perché ricordiamoci che sì, è vero, a Gesù e a Davide viene concesso tanto perché sono comunque uno figlio di Dio e l'altro è il prediletto ma verrà anche chiesto tanto. Quindi non pensiamo che essere prediletti di Dio significhi avere una vita come dire così perché anche Dina Belanger ce l'ha detto lei ha avuto tanti doni mistici ma pagati ad un prezzo altissimo. Il figlio di Dio sì, aveva tante concessioni ma a che prezzo ha pagato queste concessioni? Non solo con la sua vita ma con una morte orribile. Quindi il Vangelo di oggi ci vuole rispicchiare così quelle situazioni in cui appunto il Signore molte volte concede a delle persone di più però non pensiamo che perché abbia concesso di più o perché siano quelle persone dei cinque talenti che gli valga sempre bene anzi quindi molte volte noi che abbiamo uno o due talenti riteniamoci fortunati perché certe situazioni non saremmo capaci di gestire. Quindi il Vangelo di oggi secondo me è anche un'ottima esperienza di vita un ottimo momento per meditare realmente quello che è le capacità che noi veramente possiamo ottenere davanti a Dio e la prima capacità è l'unità quella di non chiedere più di tanto perché molte volte a certe prove spiazzano anche i migliori quindi quando noi vediamo i sacerdoti cadere persone che magari hanno anche un'alta carica all'interno della Chiesa cadere miserevolmente e lì abbiamo capito che probabilmente quei loro talenti non sono stati in grado di gestirli bene quindi molte volte quell'essere amati da Dio spesso non è ricambiato e quello che dovrebbe essere una grazia diventa una disgrazia se l'ho dato Gesù Cristo. grazie a tutti